Allora, in sede internazionali si fanno molte belle parole, buoni propositi, però si fa sempre una grande confusione, si confondono i migranti con i profughi. Tralasciamo la questione dei profughi che dobbiamo accettare la gente che scappa dalla guerra. Il problema è che i profughi sono meno del 10% quelli che arrivano nel nostro paese. Ogni paese europeo ha le prese con delle grandi manovre di bilancio perché otto anni di crisi pesano dappertutto. Manovre di bilancio e anche manovre legislative per far fronte alla grande disoccupazione, al problema della crisi occupazionale soprattutto giovanile. Bene, non possiamo accettare quei milioni di profughi che sono arrivati e i milioni che stanno ancora in procinto di partire. Abbiamo visto che quando la parola viene data al popolo, vedi la Svizzera, vedi l'Ungheria anche se non ha raggiunto il quorum per il referendum, quale tipo di risposta danno. A questo punto dobbiamo tenerne in debita considerazione. Sappiamo che partiranno milioni di persone. Come fermare il vento con le mani? Praticamente impossibile. Dobbiamo bloccare le cause di questo vento. E questo lo possiamo fare con un'unica, unica maniera. Grossi investimenti, adeguati investimenti seri e veri, dei paesi d'origine. Creando condizioni di sviluppo, creando condizioni che non si muoia più di fame, che non si pattisca la sete, manca acqua, manca tutto. Bene, se si fanno queste operazioni in cooperazione internazionale, ma seria in quei paesi, è l'unico modo per tutelare il nostro paese, l'Italia, ma l'Europa intera che altrimenti sotto questa pressione non potrà reggere.